Niente simboli di partito, ma solo civismo all'insegna delle battaglie di sempre, quelle per la legalità e la sicurezza dei cittadini contro il degrado urbano e la criminalità che Domenico Pettinari porta avanti da anni, facendosi megafono del malcontento dei cittadini. Gli stessi che ieri hanno riempito la sala consigliare del Comune di Pescara per sostenere la candidatura a sindaco di Domenico Pettinari, ufficializzata insieme a una parte del programma, delle liste e dei candidati, in vista delle prossime elezioni amministrative. Sì, ormai è ufficiale, sono candidato sindaco di una coalizione civica, indipendente, equidistante e slegata dai partiti, come alternativa credibile a tutto ciò che c'è nella città di Pescara, perché io ritengo che i partiti di centrodestra e centrosinistra, che hanno governato per anni questa città e che non hanno fatto bene, ormai è arrivato il momento che si prendano una pausa, si mettano a riposo e diano la possibilità, chi l'ama davvero questa città, di poterla governare. Io ormai da 4-5 mesi che sto facendo con la mia squadra, una squadra coesa e granitica, il vero porta a porta, stringendo migliaia e migliaia di mano, parlando con tantissimi cittadini, i cittadini mi dicono, setti candidi, indipendenti, equidistanti, torneremo a votare dopo tanti anni. Ecco, riportare al voto l'astensionismo è la più grande vittoria della mia vita. Oggi qui ci sono tantissimi cittadini, nonostante il tempo non sia clemente, c'è pioggia, c'è neve, pur sono venute centinaia e centinaia di persone. La risposta è possibile, c'è tanto entusiasmo, ma soprattutto tanta speranza riposta in noi. Abbiamo messo attorno a un tavolo oltre 75 persone che stanno scrivendo il nostro programma. A breve avremo un programma davvero concertato e condiviso con tutti gli attori, tutti i comparti della cittadinanza, a partire dal mondo dell'associazionismo, del terzo sestore, commercianti, artigiani, professionisti, mondo delle imprese. Tutti assieme si sono offerti per scrivere il nostro programma e vogliamo invertire la lotta. Da un'amministrazione comunale arrogante e prepotente andiamo a un'amministrazione comunale, la mia, che vuole concertare e condividere tutto e far partire tutto dal basso. Abbiamo idee chiare per la sicurezza, noi vogliamo una città accogliente, attrattiva, che sia pulita, che sia una città vivibile, che sia soprattutto una città sicura e ci impegneremo al massimo. Se i cittadini ci daranno l'onere e l'onore di governarla, noi siamo prontissimi.